Sicuro Merda, ho mancato l'accordo, non c'è nessuno Forse non c'erano accordi No, sembra che qualcosa sia andato storto Qui è un mattatoio Do un'occhiata da vicino Sì, ma lo dicono tutti Nemmeno una piccola scorciatoia Sì, ma lo dicono Wow, ma che cazzo Ascolta, Aiden Pierce sta venendo da te Psycho sta seguendo una pista del casino fatto da Queen a Chicago Devi assolutamente andartene subito da lì Controlla il GPS e ci vediamo lì Proveremo a tendergli una trappola Spero che ascolterà in tempo Porca puttana Cosa? È stato Aiden Pierce Che cazzo dici? Ci sono Cavabri Shue e Bratva Aiden Pierce li sta eliminando e io ci sono finito in mezzo Il giustiziere di Chicago? Proprio lui È caduto in una trappola Devo aiutarlo Proprio lui 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 Direi che Pierce si è ficcato in un mare di guai. Non ci serve la telecronaca, aiutalo. Non ci serve la telecronaca, aiutalo. Sì, baby. Sono fuori ora. Gente, ho fatto squadra con Hayden Pierce. Stai scherzando? No, era proprio lui. La Volpe. Le hai fatte una foto? No, non voglio farmelo nemico. Quello è uno che ti fa cagare addosso. Ha eliminato la mafia, le bande e ha sventato da solo un traffico di esseri umani. Ma non avevate fatto squadra? Ehi, è vivo soltanto grazie a me. Ahà. Beh, è vero. Gli ho salvato il culo. Gli ho salvato il culo. Gli ho salvato. Gli ho salvato il culo. Gli ho salvato il culo.